Al Fano abbraccia Dinami in Calabria per inaugurare il centro di aggregazione giovanile di Meli Cucca di Dinami. Il ministro dell'interno ha ribadito l'impegno del governo per il sud e per la nostra regione. Soddisfatto il sindaco è un evento storico ha rimarcato. Indagine sui boschi sarebbero nove le persone coinvolte nell'inchiesta a Calabria Verde condotta dalla procura di Castrovilla, ritruffa in concorso e reato ipotizzato. Al centro delle indagini alcune concessioni bostive tra gli indagati e il capo di gabinetto della giunta regionale Gaetano Pignanendi. Game over sulla regina calcio, la procura a sequestra di rutenza, la società madre e altre tre che gravitano attorno all'orbita della scuola calcio Amaranto. Il presidente di Lofoti indagato per bancarotta concordata. Il collasso della fondazione Pierina. Da cinque mesi senza stipendio i laboratori dell'entenaus della regione lanciano il loro ultimatum. Se non ci saranno novità siamo disposti ad azioni eclatanti. Lega Pro tra sogno e realtà. La voglia del Cosenza di conquistare play-off promozione. La speranza dei tifosi catanzaresi nel restare tra i professionisti. Vi mostriamo tutti gli incastri possibili. Buonasera Demilia Canonaco e benvenuti a questa nuova edizione del nostro giornale. L'avete appena ascoltato dal sommario. Partiamo subito dalla presenza questa mattina nel vibonese del ministro dell'interno Angelino Alfano che tra le altre cose ha dichiarato in Calabria comanda lo Stato, non la Ndrangheta. Il titolare del viboniale è stato presente alla cerimonia di inaugurazione di un centro di aggregazione sociale a Melicucà di Dinami. Un centro che è stato realizzato con i fondi della Pona Sicurezza del ministero dell'interno. Il maltempo non ha scoraggiato. La voglia di dimostrare la presenza dello Stato sul territorio ha fatto il resto. Angelino Alfano sbarca in Calabria e per la prima volta raggiunge un piccolissimo centro del sud. Il ministro dell'interno era atteso a Melicucà di Dinami per inaugurare il centro di aggregazione giovanile. Un'opera voluta dalla precedente amministrazione comunale guidata da Franco Cavallaro, attuale segretario generale della CISAL, costruita con i fondi PON Sicurezza ed ultimata dall'attuale amministrazione guidata da Maria Ventrice. È un evento importante per la città di Dinami. È anche un momento storico perché è la prima volta che in un piccolo paese viene un personaggio così illustre, così importante e c'è onora della sua presenza. La struttura inaugurata dalla ministro Alfano è imponente. Un edificio di 500 metri quadrati con laboratori linguistici, informatici e innumerevoli spazi concepiti allo scopo di rendere fruibili per i giovani della zona percorsi e unità attraverso cui trasmettere messaggi di legalità. Parola rimarcata con forza da Alfano. Senza sicurezza e legalità per il numero uno del Viminale non c'è incentivo statale o industrializzazione che possa compensare una bomba in un cantiere o la paura per il rischio di un'estorsione. Condizione identica in una grande aurea urbana o in un piccolo comune come Dinami. Prima del taglio del nastro Alfano, nel promettere una nuova visita nel Vibonese per un nuovo segno tangibile della presenza dello Stato all'interno della scuola di polizia si è soffermato con alcuni dipendenti della provincia di Vibbo garantendo loro un impegno al governo per trovare una soluzione immediata al pagamento delle spettanze arretrate. Da Dinami, Alessio Bonpasso per la Cineus 24. E sempre il ministro all'interno Alfano stamattina durante la sua visita a Dinami tra le altre cose ha detto finora abbiamo consentito che si dicesse che l'Andrangheta dava un posto di lavoro ai giovani calabresi e lo Stato con gli arresti eseguiti invece glielo toglieva. Il quadro ha continuato, il numero uno del Viminale è decisamente cambiato. Siamo finalmente in grado di affermare che quello stesso Stato crea le condizioni preliminari per la realizzazione della legalità. Condizioni preliminari alla ricerca di un posto di lavoro. Ma ascoltiamo le parole di Angelino Alfano. Questo governo ed io come ministro del Sud non dimentica e non dimentichiamo che il Sud non è fatto da grandi città e da grandi aree metropolitane ma da piccoli comuni che hanno bisogno della presenza dello Stato. Noi siamo in una città, in un comune dove un bravo sindaco ha promosso un'opera che è un'opera di straordinario rilievo. Intanto perché segna la presenza dello Stato, il rafforzamento di un presidio dello Stato poi perché è fatto per sostenere ulteriormente l'idea che la sicurezza e la legalità sono l'elemento, il pilastro fondamentale per lo sviluppo del Sud. Quando io sento parlare di piano per il Sud dico sempre che la cosa principale è la sicurezza e la legalità perché senza la sicurezza e la legalità non ci può essere nessun incentivo industriale, nessuna detassazione che possa compensare una bomba in un cantiere o la paura che fa il rischio di un'estorsione. Oggi noi siamo qui per dire che il Sud è in testa alle nostre priorità che il Sud è un pezzo essenziale dell'agenda del governo e che senza il Sud non si può immaginare uno sviluppo del nostro paese e che il Sud non si sviluppa se non c'è sicurezza e se non c'è legalità. Io prendo impegno di venire qui appositamente a Vibo per la scuola di polizia perché quello è un segno di presenza dello Stato e specificamente delle forze dell'ordine sul territorio che non può essere abbandonato e trascurato quindi io oggi nel venire qui prendo l'impegno di tornare specificamente per fare un punto della situazione sulla scuola di polizia. Da Dinami, Alessio Bompasso per la Cineus24 Siamo alla cronaca perquisizioni del Corpo Forestale dello Stato questa mattina negli uffici della cittadella regionale i controlli sono stati eseguiti nell'ambito dell'inchiesta Calabria Verde condotta dalla Procura della Repubblica di Castro Villari sull'utilizzo del patrimonio boschivo nove le persone indagate tra cui Gaetano Pignanelli capo di gabinetto di Mario Oliverio lo vediamo in questa foto e Mario Caligiuri a capo del Dipartimento Agricoltura il reato contestato è di truffa in concorso gli indagati secondo l'accusa attraverso la falsa attestazione della quantità di legna presente nel comune di Bocchigliero in provincia di Cosenza eludendo l'obbligo di asperire la procedura dell'evidenza pubblica inducevano in errore Calabria Verde che rilasciava così in via diretta le concessioni alla ditta di Marino De Luca che avrebbe ottenuto un ingiusto profitto di 80.000 euro nel corso delle perquisizioni odierne è stata rinvenuta anche una pistola con matricola a Brasa una notizia di cronaca giudiziaria adesso con la Cassazione che dice sì al ricorso della DDA sull'arresto di Michele Trematerra indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale nell'ambito dell'inchiesta a Cherunzi al centro delle indagini i legami tra l'ex assessore regionale all'agricoltura e l'ex consigliere comunale di Acri Angelo Giancarelli considerato dagli inquirenti vicino alla cosca di Indrangheta l'anzino Ruà ricordiamo che lo scorso 7 luglio il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva negato l'arresto del politico ora dopo il pronunciamento della Cassazione gli atti tornano al tribunale di Catanzaro che dovrà nuovamente motivare le esigenze cautelari nei confronti appunto di Michele Trematerra abbiamo ancora argomento la società della Regina Calcio pur di evitare il fallimento avrebbe pesantemente falsificato i bilanci facendo comparire crediti del tutto inesistenti tra cui 190.000 euro che la stessa società aveva scritto di vantare da parte nei confronti appunto della Juventus della Federazione Italiana Gioco Calcio è indagato per bancarotta concordata il patron degli amaranto Lillo Foti sentiamo i particolari dal nostro servizio la Regina Calcio S.p.a. deve essere sequestrata d'urgenza e il suo presidente Lillo Foti sarà indagato per bancarotta concordataria e questo quanto la procura di Reggio per mano dell'aggiunto Gerardo Dominiani e del PM Stefano Musolino chiede al Tribunale i documenti presentati nei concordati con i quali la società guidata da Foti aveva finora evitato il fallimento conterrebbero infatti dati falsi che altererebbero il bilancio della squadra di via delle industrie secondo la procura che ha disposto il sequestro preventivo di tre società in house della vecchia Regina il denaro che Foti doveva incassare dalla Juventus 150.000 euro e dalla FIGC 40.000 euro non esisterebbe o meglio non sarebbe supportato da alcun riscontro documentale ad aggravare la posizione del patron c'è anche l'accusa di appropriazione in debita secondo la magistratura inquirente Foti si sarebbe appropriato di circa 600.000 euro in due anni sottraendoli dal bilancio della società Amaranto un'accusa che nasce dalla stessa documentazione presentata all'interno del concordato e dalla quale il patron della regina calcio dovrà difendersi carte alla mano per evitare il fallimento Francesco Creazzo per la Cineus 24 Ancora per la cronaca nuovo blitz interforze di polizia e carabinieri questa mattina all'interno del campo rom abusivo di Germaneto a Catanzaro è stata arrestata una persona Continuano i controlli delle forze dell'ordine coadiuvati da più reparti nei quartieri nevralgici della città di Catanzaro dalle prime ore di questa mattina un'operazione ha interessato in particolare il quartiere Germaneto e ha visto l'impiego di numerose pattuglie dell'arma dei carabinieri e della polizia di Stato un'operazione interforze quindi con perquisizioni personali e domiciliari a carico di diversi soggetti da Catanzaro per la Cineus 24 Un ragazzo dal sorriso sincero così i compagni d'università descrivono lo studente di Arcavacata originario di Cariati in provincia di Cosenza che nel tardo pomeriggio di ieri dopo aver accoltellato offrendolo fortunatamente in modo non grave un suo conquilino si è lanciato dal quarto piano dell'appartamento dove vivevano insieme il ragazzo ferito è tuttora ricoverato all'ospedale civile dell'annunziata le sue condizioni vi dicevo non destano particolare preoccupazione però è troppo presto per un interrogatorio approfondito quindi c'è ancora da aspettare bisogna capire che cosa sia stato all'origine del litigio e che cosa soprattutto abbia causato il suicidio dello studente di Cariati sentiamo la tragedia si è consumata ieri pomeriggio poco dopo le 15 davanti agli occhi attoniti ed impauriti di decine di studenti universitari in via Boccioni a Rende nei pressi dell'Ateneo di Arcavacata e dello svincolo autostradale di Cosenza Nord in un appartamento al quarto piano di questo edificio due coinquilini litigano furiosamente uno dei due afferva un coltello e colpisce l'altro con un fendente alla gola poi preso dal panico scavalca la ringhiera del balcone determinato a farla finita e convinto di aver assassinato il coetaneo che invece medicato al pronto soccorso dell'annunziata di Cosenza non è in pericolo di vita il trambusto richiama l'attenzione dei tanti ragazzi che risiedono nella zona giungono anche i carabinieri gli implorano di non gettarsi ma il giovane Marco Santoro 19 anni di Cariati dopo una drammatica telefonata ai genitori precipita nel vuoto un'auto parcheggiata attutisce parzialmente la caduta e il giovane respira ancora morirà poco dopo l'arrivo in ospedale sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell'episodio ed accertare quali siano stati i motivi scatenanti della lite da Lende Salvatore Bruno per la Cineus 24 e ci sono altre brevi notizie di cronaca di cui dobbiamo darvi conto eccole messe insieme nel prossimo servizio un sotto ufficiale in servizio nella capitaneria di Porto di Reggio Calabria Francesco Chilà di 48 anni è stato arrestato dalla squadra mobile regine posto ai domiciliari con l'accusa di aver cancellato un verbale di contravvenzione che era stato elevato al figlio del boss dell'andrangheta Roberto Franco di 56 anni sorpreso alla guida di un acquascuter senza il casco protettivo obbligatorio agli arresti domiciliari è stato posto anche il giovane al quale era stata elevata la contravvenzione Francesco Franco di 24 anni mentre al padre di quest'ultimo Roberto di 56 anni presunto capo dell'omonima cosca federata con quella dei De Stefano è già in carcere perché è arrestato dalla stessa squadra mobile di Reggio Calabria nell'ambito dell'operazione Sistema Reggio del 15 marzo scorso 24 apparecchi da gioco e intrattenimento sono stati sequestrati in due esercizi commerciali della guardia di finanza di Cosenza che ha segnalato tre persone che rischiano sanzioni per 500 mila euro all'agenzia delle dogane e all'azienda Monopoli di Stato gli apparecchi sequestrati dai finanzieri che sono risultati totalmente illegali perché privi delle licenze previste apparivano destinati all'acquisto di ricariche telefoniche e di beni online e solo attraverso una combinazione di tasti consentivano l'attivazione dei giochi illegali la totale illegalità degli apparecchi da gioco secondo quanto appurato dei finanzieri ha consentito al titolare dell'attività di impostare le percentuali di ritorno delle giocate invincite a proprio favore disattendendo la normativa di riferimento e assicurando così elevati introiti e bassissime erogazioni di vincite Alessio Buompasso per la CNews24 Chiudiamo qui l'ampia pagina del giornale dedicata alla cronaca nel prossimo servizio tracciamo invece una bilancio della ventitraesima giornata della libertà di stampa che in Italia ordine dei giornalisti e sindacato hanno deciso di celebrare nella città di Reggio Calabria tanti gli aspetti che sono stati esaminati si è parlato dei siti internet delle televisioni pirate dove si consente l'accesso a giovanissimi che pur di iniziare a praticare questa professione sono disposti a lavorare veramente per pochi euro così causano un danno un forte danno a chi questo lavoro invece lo fa da una vita sentiamo purtroppo in Italia è in aumento il numero dei cronisti minacciati costretti a vivere sotto scorta poi c'è un apparato legislativo che va rinnovato in questo paese è ancora previsto il carcere per i giornalisti che vengono riconosciuti colpevoli di diffamazione e poi c'è il problema quello delle cosiddette querele temerarie ossia la moda tutta italiana di cercare di intimidire il cronista che per esempio avvia un'inchiesta giornalistica presentandogli subito una richiesta di risarcimento milionaria così il segretario generale della federazione nazionale della stampa italiana Raffaele Russo concludendo a Reggio Calabria la ventiquattresima giornata mondiale della libertà di stampa nell'intervento con cui ha aperto i lavori il vicepresidente della FNSI Carlo Parisi ha sostenuto che la settantasettesima posizione che l'Italia occupa nella classifica mondiale della libertà di stampa non rende giustizia al nostro paese di fronte ai problemi di tanti giornalisti che rischiano quotidianamente la vita per raccontare i fatti della nostra terra quindi la testimonianza di Michele Albanese giornalista sottoscorta riuscire a dare un'informazione corretta veritiera responsabile dei fatti che accadono in un paese significa creare le condizioni perché tutti i cittadini possono essere più libere Cristina Iannuzzi per l'AC News 24 la pagina del lavoro con i dipendenti della fondazione Terina ente di ricerca in house della regione Calabria senza stipendio da cinque mesi annunciano di essere pronti ad azioni eclatanti nel caso in cui non venga data immediata esecuzione alla riforma datata 2013 che riorganizza gli enti regionali ascoltiamo continuano tutti i giorni a recarsi sul posto di lavoro i lavoratori della fondazione Terina lavoratori che da cinque mesi non portano a casa lo stipendio anche se fanno parte di un enten house regionale lavoratori che hanno ora dato l'ultimatum alla regione e chiedono che venga applicata la riforma del 2013 che prevede che Terina venga spogliata di alcuni rami di cui si occupa in modo da poter trasferire parte dei suoi lavoratori su altri enti e riuscire a tagliare i costi costi ormai insupportabili visto che la fondazione commissariata ha debiti per quasi 5 milioni di euro questa legge per la parte che attiene la fondazione è stata pubblicata sul bur del maggio del 2013 siamo a maggio del 2016 tre anni in cui la regione o meglio la giunta regionale ha deciso di non applicarla per ragioni che a questo punto cominciano ad essere oscure ed inquietanti e mentre continuano latitare gli incontri tra il commissario Loiero e il governatore Oliverio la situazione finanziaria dei lavoratori diventa sempre più critica i mesi di stipendi non percepiti comportano un esborso comunque perché la maggior parte dei noi dipendenti siamo pendolari un esborso ulteriore alle già misere ridotte risorse familiari tiziana bagnato per la cegnus 24 voltiamo pagina dopo sei lunghi lunghissimi anni di disagi la frazione polia nel vibonese esce dall'isolamento in cui era stata costretta a causa del gravissimo smottamento che aveva reso inagibile la strada provinciale nei giorni scorsi la cerimonia di riapertura dell'arteria viaria hanno dovuto attendere sei anni prima di poter ritornare alla normalità sei anni prima di uscire dall'isolamento in cui erano costretti dopo la frana che nel 2010 si staccò dalla montagna cancellando la strada provinciale numero 46 unica via di collegamento per gli abitanti della frazione tre croci di polia piccolo centro dell'entroterra vibonese e per poco quel giorno non ci scappò il morto in questa auto rimasta incastrata nella montagna c'era una donna salvata da alcuni abitanti poco prima della caduta dei massi ma è ormai acqua passata dopo numerose proteste la strada è stata ricostruita grazie allo sblocco di un finanziamento del 2014 sabato l'inaugurazione del nuovo tracciato alla presenza delle massime autorità civili militari e religiose del territorio e di tutti gli abitanti di Polia che hanno festeggiato così il ritorno alla normalità un vero piacere che siamo qui oggi a riaprire questo tratto di strada sono orgoglioso di avere qui gran parte della mia comunità dell'amministrazione comunale oltre che a chi effettivamente si è prodigato per la realizzazione di quest'opera la riapertura di questa strada ridà la dignità che questo territorio meritava di avere che la gente di questa zona e dei paesi di questo comprensorio meritavano di avere Cristina Iannuzzi per la Cinews 24 Tutelare il patrimonio culturale ed ambientale questo è il principio ispiratore della convenzione che è stata firmata tra il Consiglio regionale e il Comitato Unesco Giovanile Un protocollo d'intesa per collaborare alla tutela dei beni culturali del patrimonio artistico paesaggistico e naturale a firmarlo il Presidente del Consiglio regionale Nicola Irto è il Comitato Giovani Unesco un gruppo composto da giovani che si propone impegno per valorizzare far conoscere e riscoprire all'opinione pubblica e alle istituzioni ciò che la Calabria ha da offrire uno dei primi atti del Comitato infatti è stata la nomina ad ambasciatore Unesco di Demetrio Spagna presidente e fondatore del Museo dello Strumento Musicale di Reggio che ha appena riaperto i battenti dopo il terribile incendio doloso di tre anni fa Le priorità sono sicuramente quelle di lavorare su più fronti il nostro territorio non può essere un territorio statico e non aperto alle nuove sfide del mercato della cultura sicuramente quello che ci prefiggiamo è di approcciarci al territorio con un ruolo dinamico quindi una delle nostre priorità è quella di istituire territorialmente dei Living Lab in modo tale da coinvolgere le comunità in un processo di valorizzazione di pianificazione di strategie culturali che riguardano sì il patrimonio ma che riguardano soprattutto le comunità che sono i legittimi possessori dell'eredità culturale del nostro territorio Francesco Creazzo per la Cinius 24 Ora spazio all'arte con il Festival delle Armonie Sarà ancora una volta il Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia la cornice di Armonie d'Arte Festival giunto alla sedicesima edizione un cartellone quello presentato nella sala conferenze del parco stesso che vuole mantenere alto il livello della Kermess offrendo spettacoli di qualità a partire dal primo appuntamento previsto per il 24 luglio con Carmen spettacolo di danza in due atti tra i più interessanti e apprezzati ma ci sarà spazio anche per il jazz e il teatro anche quest'anno vi sarà una produzione originale di Armonie d'Arte Festival Francesco e il Sultano e sarà dato spazio anche ad artisti locali Guarda è un momento più che mai critico per la cultura sebbene i cartelli delle istituzioni raccontino un altro film la verità dei fatti è che la criticità è veramente consistente tuttavia noi facciamo uno sforzo grande perché tentiamo di mantenere quel profilo editoriale che abbiamo sviluppato in tanti anni vorremmo anche nel nostro piccolo contribuire affinché la Calabria possa avere una vetrina nel mondo in termini di positività capacità operativa gestione delle belle cose ma anche poter avere in Calabria quei grandi artisti che forse a volte non sanno nemmeno dov'è la Calabria nello stesso tempo dare un impulso agli artisti qui i nostri artisti Rossella Galati per la Cineuse 24 il calcio di Lega Pro il Cosenza vuole a tutti i costi i playoff traguardo certo possibile ma a due condizioni vittoria sull'Ischia e sconfitta della Casertana archiviare la partita contro l'Andrea e guardare avanti un pari dal Gustamaro che ha tagliato fuori di fatto il rosso-blu dalla corsa verso la serie cadetta solo un miracolo potrebbe riaccendere la speranza miracolo sportivo che i Rosselli Boys vorranno e dovranno inseguire fino all'ultimo dei 90 minuti restanti il trainer Silano ha tutta la rosa a disposizione contro l'Ischia avrà solo l'imbarazzo della scelta l'unico in dubbio è Ciancio ancora KO per problemi muscolari allenamento regolare per la Mantia nonostante la botta al ginocchio e Pinna rientrato nel gruppo dall'altra parte del campo gli isolani già condannati ai play-out sbarcheranno in Calabria con l'intento soprattutto di mantenere alta la concentrazione in vista proprio degli spareggi per non retrocedere verosimile un forte turnover all'andata furono i Silani ad imporsi per 2-1 successo che valse la prima vittoria in trasferta stagionale solo una vittoria e la contemporanea sconfitta della Casertana porterebbe la nave rosso-blu ai play-off a parità dei punti il Cosenza infatti avrebbe la meglio sui campani in virtù delle due vittorie negli scontri diretti sarà Enzo Vesprini della sezione di Macerata a dare il fischio d'inizio sabato alle 16 da Cosenza per la Cineus 24 ed il Catanzaro sempre in Lega Pro rimane agganciato alla speranza della salvezza risultato possibile ad una condizione vittoria sul Melfi dal baratro alla luce in una settimana dall'inferno play-out al paradiso salvezza con l'obiettivo di restarci per farlo il Catanzaro potrà pensare solo a se stesso senza nessun obbligo di incastri particolari sugli altri campi la vittoria ad anni dell'Ischia ha ridato vigore giallorossi tra le aquile ed il mantenimento della categoria resta solo un ultimo ostacolo il Melfi a più due sul Catania una vittoria eviterebbe ogni possibile colpo di scena gruppo di error al completo eccezione fatta per Moi e Maita quest'ultimo fermo a causa di un trauma distorsivo al ginocchio molto probabile un suo forfè dall'altra parte mister Ugolotti suona la carica a Catanzaro dichiarato in settimana si va per l'intera posta in palio i gialloverdi aritmeticamente play-out non possono migliorare la loro classifica ma difficilmente e le parole del trainer Lucano lo confermano regaleranno qualcosa all'andata finì 2-0 per il Melfi primo incontro dell'anno e ultimo match della stagione si scenderà in campo sabato alle 16 match affidato a Niccolò Baroni della sezione di Firenze da Catanzaro per la C-News 24 e allora come avete sentito dai nostri ultimi due servizi tra speranze di play-off speranze di salvezza il quadro delle calabresi di Lega Pro è ancora tutto da definire però siamo già in grado di dirvi una cosa il prossimo campionato costerà di meno sentite perché importanti novità per i club di Lega Pro per iscriversi al prossimo campionato i soldi da sborsare saranno di meno immutato il costo di iscrizione diverso invece l'importo da garantire attraverso la fideiussione non più 400.000 euro ma 350.000 solo per i più virtuosi però per quelli che riusciranno a contenere il libro paga all'ordo di tutti i tesserati tecnici calciatori addetti alla gestione sportiva al di sotto di un milione e mezzo di euro un vero e proprio invito a non accedere sono stati infatti fissati degli scaglioni con percentuali di parametro a salire per chi vorrà andare oltre nei costi già raggiungendo i 2 milioni la fideiussione sarà di 500.000 euro a quota 2 milioni e mezzo di 750.000 qualora il monte ingaggi raggiungesse i 3 milioni ci vorrà una garanzia fideiussoria da 1 milione di euro superando questo limite sarà richiesta la copertura totale della parte eccedente come sempre ritardi nel deposito della garanzia bancaria o nella consegna di documenti necessari saranno considerati leciti disciplinari e saranno puniti dalla giustizia sportiva con un punto di penalizzazione per ogni inadempienza riscontrata il limite per il pagamento della fideiussione è fissato al 30 giugno 2016 per le società di lega pro si farà riferimento a tre indicatori liquidità indebitamento costo del lavoro allargato non rientrare nei parametri di questi indicatori comporterà sanzioni pecuniarie inoltre la presenza di debiti confederazioni estere e il mancato pagamento degli emolumenti potrà inficiare l'ottenimento della licenza nazionale per la stagione successiva Alessio Bonpasso per la CNews24 Allora è davvero tutto del resto non ci sono aggiornamenti di rilievo mi fermo qui vi ringrazio per l'attenzione che ci avete manifestato e vi auguro un buon proseguimento di serata arrivederci visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizie che fa notizie